Buongiorno a tutti per questo 23 gennaio 2021, apriamo questa striscia redazionale di informazione chiaramente a livello sperimentale dando qualche notizia proprio dell'ultima ora e poi sfogliando il nostro giornale, l'Eco, in edicola. A Potenza sta succedendo qualcosa di importante perché sembrerebbe che il governo regionale, la giunta regionale presieduta da Bardi sia in difficoltà, addirittura si paventano le dimissioni di uno degli assessori più attivi, Franco Cupparo che tra l'altro è anche un po' dell'area sud della Basilicata e di Francavilla. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più ma da tempo chi segue la politica sa che il governo regionale non godeva proprio di ottima salute. Evidenziamo anche che questa sera a Senise vi sarà un incontro promosso dal Rotary e Signa Senise, si parlerà dell'enciclica Fratelli e tutti di Papa Francesco e da remoto vi saranno una serie di personalità che discuteranno di questo importante documento ovviamente a partire dal Vescovo diocesano Monsignor Orofino. Oggi vi è stata una nota stampa prodotta dalla Vice Sindaco Katia Vaiano sul sistema scolastico di Lago Negro e sulla qualità in particolare dei licei e sono state fatte delle iniziative proprio per invogliare i ragazzi a scegliere queste scuole che primeggiano sia a livello regionale che a livello nazionale. Facciamo un tuffo nel passato una spigolatura, una notizia interessante che ci viene addirittura dal 1506, proprio oggi un primo drappello di 150 guardie svizzere fecero l'ingresso nel Vaticano. Tutti conoscono le guardie svizzere quando chi è stato insomma a San Pietro ha notato questa presenza, sempre molto composta, molto ordinata e queste guardie ovviamente sono a protezione del Papa. Sono anche molto pittoresche diciamo perché hanno delle divise particolari a cui insomma siamo un po' tutti affezionati. Dicevamo del nostro giornale in edicola però ci teniamo anche a dire che a Lauria il famoso gemello alias Raffaele Ielpo ha preparato già il simbolo per le prossime elezioni comunali e tra l'altro ha evidenziato anche che lui non si, a meno che succedano fatti particolari, non si intende candidare da sindaco ma vuol far parte di una squadra importante. C'è però questo simbolo che lui ha preparato in cui campeggia ormai il brand gemello e campeggia anche la scritta lista civica ma avremo modo ovviamente di parlare un po' anche delle questioni amministrative e comunali, tra l'altro sono presenti nel numero in edicola a pagina 7. Invece ecco proprio in conclusione di questa striscia informativa vorremmo evidenziare il dossier preparato dal professore Melchionda sul fiume Noce, un dossier davvero importante, 5 pagine da conservare, da staccare mi verrebbe da dire e da custodire gelosamente perché oltre alle questioni più politiche e più strategiche legate alla conservazione e alla protezione di questo fiume così importante vi è anche un po' un'analisi naturalistica di questo ambiente particolare davvero bello, davvero straordinario che rischia di essere messo in discussione se non vi saranno delle adeguate protezioni e appunto in questo lungo articolo ma davvero molto molto interessante si potrà approfondire questo tema. Bene, questa striscia ha anche, si pone come obiettivo quello di essere agile, veloce e quindi non lungo come purtroppo spesso facciamo, noi vi salutiamo, una giornata molto uggiosa e proprio in questo momento sta grandinando a Lauria e ci salutiamo e ci risentiamo nella giornata di domani. Grazie a tutti e ancora buona giornata.